1969, finisce il periodo transitorio per la realizzazione del MEC. 1999, Boris Yeltsin annuncia le dimissioni e designa su erede Vladimir Putin. 1880, nasce George Marshall. Commenta la notizia del giorno Maurizio Molinari, direttore della stampa. Oggi ho scelto di parlare della nascita di Simon Giesenthal, il cacciato per una testa.